Allora, buonasera, siamo qui con Orlando, migliore in campo della partita Vecchi Lions-Blue Island finita 3-2 per i Vecchi Lions, nonostante la sconfitta Orlando migliore in campo. Allora Orlando, perché migliore in campo secondo te? Nonostante appunto la sconfitta. Forse ho salvato più di una volta il risultato, ma purtroppo abbiamo perso la stessa. Dispiace, la prestazione non mi interessa, mi interessa di vincere. Ho capito. E senti, per quanto riguarda gli obiettivi, ormai la classifica è quasi del tutto completata con l'ultima giornata. Gli obiettivi della vostra squadra quali sono? Di vincere il torneo, però dobbiamo concretizzare di più avanti, altrimenti non si arriva da nessuna partita. Ho capito, va bene. Allora ringraziamo Di Maso e un saluto. Di Maso, Orlando.